Bambini, questo è il miglior parco giochi dell'universo. Venite a giocare. È molto sicuro. Il nostro parco giochi è un grande fallimento edilizio. Guardate. Dobbiamo fermarlo. Non vi ascolterò. Ah, è ora di cambiare alcuni bambini. Sì, il giorno successivo nella vita degli amici dell'arcobaleno. Devo scivolare su di esso. Stesso. Prima controlla la tua altezza. Perché questi bambini sono andati di senza? Non fare domande stupide. Sono il primo. Oh no. Non preoccuparti. Vai, sei carina. Grazie. Spero di essere carina anch'io. No, non lo sei. Vai sullo scivolo per bambini. Forse qui troverò degli amici. Amiamo Fortnite. Amiamo Fortnite. Amiamo Fortnite. Tempo per lo scivolo. Ho paura. OMG, cosa è appena successo? Non scivolare. Cosa? Ehi, fermati. Qualcosa sta prendendo i bambini. Cosa? Cosa? OMG, questo parco giochi non è normale. Ehi, uscite tutti da questo parco giochi. È infestato. Cosa? Correte subito. Sicurezza, portatelo via. Cosa? Vai via, ragazzo. Mai. O-M-G. Esci. Secondo tentativo. Dot mi ringrazia per questa voce fuori campo. Ok, sono travestito. Ciao, controlla la tua altezza. Ok, nessun problema. Signore. Oh, sono così vicino. Vai via, noob. Sei troppo piccolo? No. Secondo tentativo. Devo entrare. Cos'è questo posto? Fammi entrare in questo posto. Sì. Forza, scivola più veloce. Ok. Nu, aspetta. Morirai. Ah, bambino. Non può essere così. Ragazzi, smettetela subito. Ah, perdente. Hai paura di scivolare? Facile. Aspetta, cosa? Non mi schioderò mai da questo. Stai perdendo nella nostra battaglia? Mai. Wow, questo scivolo mi ha fatto diventare alto. E' magico. Cosa? Come? Ora giocherai al mio gioco. Ah. Ok, facciamo un torneo. La prossima diapositiva è questa. Per 10 dollari. Voglio 10 dollari. Puoi andare. Cosa? E' appena morto. Signore, chi ha fatto questo scivolo? Non posso dire. Troppo buono. E' il mio turno. Sei troppo piccolo. Ah. Ah, una. La prossima diapositiva è per 1000 dollari e si trova in paradiso. Cosa? Siamo in paradiso? E' 100 volte più alto del precedente. Prima io. Fermarsi. Controllare l'altezza. Ok, lo farò. Puoi andare. Non mi sento così bene. Il mio turno. No. Cosa? Il mio turno. Entrambi non potete andare. Devo arrivare più in alto prima di mia sorella. Aspetta. Cos'è questo? Saltami addosso. Oh. Wow. Sono diventata più alta. Ora su di me. Ok. Ah. Andiamo. Arriverò a questo scivolo. Come faccio a diventare più alto? Guarda dietro di te. Andiamo. Facile. Sparali. Prossimo salto. Andiamo. Non puoi vincere. Ok. Il prossimo è sospetto. L'ho fatto. Ah. Andiamo. E l'ultimo salto. Grande salto. Sì. Sei tornato? Sì. Sei a posto? Sì. Sto bene anch'io. Ok. Ora puoi scivolare. Ho paura. Vai. Guardate e abbonatevi o questo tizio sarà nel vostro bagno. Non rischiate. Ma sono vivo. Sì. Anch'io sono bravo. Ok. No. Come fai ad essere vivo? Aspetta. Sei stato rosso per tutto il tempo? Chiamo la polizia. E' ora di valutare questi criminali. Volevo solo far ridere i bambini. Catturava le persone nel suo parco giochi dell'orrore aggiungendo delle lame alla fine dello scivolo. Ti sto dando un brutto voto. Era il criminale più pericoloso. Più di Jeff l'assassino. Aspetta cosa? Oh no, Jeff. Cattivo. Ha costruito una base segreta sotto il parco giochi. Dove? Fammi vedere. Ha catturato un amico viola e lo stava maltrattando. Non è possibile. E' vero? Sì. Vai in prigione per il resto della tua vita. Ah, ora è il momento di controllare tutti coloro che hanno costruito questo parco giochi. Mi ha costretto a farlo. Ha preso i bambini dopo essere scivolati sul parco giochi. Quindi questo è il tuo posto? Sì. Balloon. Wow, funziona. Male. La sua famiglia era in ostaggio e lui doveva fare il suo lavoro altrimenti l'amico rosso li avrebbe distrutti. Non è possibile che abbia la tua famiglia. Sì. Per favore fateci uscire. Per favore. Non è una cosa negativa. Mi dispiace tanto. Divenne estremamente triste e pianse tutti i giorni dopo che l'amico rosso lo catturò. No, non puoi perdere i tuoi colori. Non arrenderti. Bene. Ok, ti lascerò uscire. Ma dimmi come sei diventato viola. E molto molto triste. Ehi. No. Dove è andato? Aspettare. Ciao, Giorgie. Ciao. Vieni qui. Cosa stai facendo? Lasciami in pace. Ti trasformerò in un amico viola. No. Ora ti lascio qui. No, no, no. Cento anni dopo. Sono passati cento anni. Devo uscire da qui. Corri ragazzo. Meriti di essere libero. Ne sono rimasti solo due. Perché stavi lavorando su quegli scivoli? Ho cercato di fermarlo. Era un costruttore del parco giochi e sapeva che era pericoloso. Stava cercando di fermare l'amico rosso, ma l'ha trasformato in questo. No. Ok, queste due cose sono sufficienti. Darti un sì. Grazie. La sua famiglia lo odia dopo che è andato in prigione. Ok, ti meriti di essere libero amico mio. Vai. Grazie. L'ultimo. Famiglia dell'amico rosso. Era il mio ragazzo, non io. Stavano aiutando l'amico rosso a prendere i bambini al parco giochi. Are you serious right now? Oh wow. Il ragazzo era estremamente cattivo come suo padre. Quindi ha cresciuto questo bambino perché fosse cattivo come lui. Smettila. Rosso. Oh no. Sono diventati tristi dopo essere finiti in prigione. Meritate di essere tristi. No. Vai in prigione. Per favore, no. È stata una giornata molto produttiva. Yono. Sono felice che il rosso sia andato in prigione. Riprendiamo il nostro torneo. Non so se è sicuro, ma costa 10.000 dollari. Oh mio Dio. Chi l'ha costruito? Non è possibile. Non so nulla di questo scivolo. Chi ha costruito questo? Ah, è stato facile. La mia schiena. Oh mio Dio. Non è sicuro, ma devo farlo. Chi l'ha messo qui? Ma l'abbiamo fatto. È il momento delle ultime scivolate. La prossima scivolata è troppo pericolosa per te, noob. È per me? Mai. Oh mio Dio. Forse è così. Vogliamo scivolare? Andare. Aspetta. Chi stava facendo questi scivoli? Non sembra sicuro. Scivolare. Ho paura. Oh no. Guarda. È stato distrutto. Non scivolo da questo. Ti arrendi. Ah. Agh. Ok, fallo prima. Facile. Non mi sento così bene. Oh mio Dio. Non so se è viva, ma fammi provare. Sono ancora vivo. Ok, la prossima diapositiva è super pericolosa. Solo L1% sopravvive su questo scivolo. Ok, vado io per primo. Andiamo. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Non posso crederti. Ok, tocca a me. Jenna. No. È a morta. Perché abbiamo iniziato tutto questo? Aspetta, non riesco a vedere. Ti unirai a lei. No, sono morta anch'io. Oh mio Dio. Dove sono? Dimmi. Sei morto. Ora devi votare queste persone per tornare sulla Terra. Chi è il primo? Adamo. Sì. Stava diventando troppo forte. Ah, smetti di sollevare. Sei troppo grande. Male. Ha fatto il braccio di ferro con un Superman. Oh my God. E chi ha vinto? Oh mio Dio. Ok, ho capito chi ha vinto. Ma il combattimento è brutto. Rosso. Aveva il potere di cambiare il suo corpo. Wow, che figata. Ma comunque non puoi essere bravo. Il prossimo. Io sono Benten. Wow, ho guardato il tuo show quando ero giovane. Buono. Si trasformava in un mostro diverso ogni volta che toccava l'orologio. Aspetta, questo orologio? Sì. Questa evoluzione è strana. Umme, lasciami cambiare. Che cos'è? Il suo orologio si è guastato e lo ha trasformato accidentalmente in Pibi. Era bloccato nel corpo di Pibi per tutta la vita. Ok, non sei una persona cattiva. Vai verso il bene. Aveva cento figli e mancava il poliziotto. Aspetta cosa? Cento? Questo è mio figlio. Ah, questo è troppo figli. Amava mangiare le ciambelle. Lo adoro. Non posso biasimarti. Voleva distruggere il paradiso. Smettila di distruggere il paradiso. Stai andando male. Ah. E' stato facile. Il prossimo. F padre stava picchiando F figlio. Oh no, non mi piace. Perché? Papà fermati. OMG, hai visto questo? Brutto. Stavano mangiando alfabeto a cena. Anche questo è brutto. Mamma e figlio avevano paura del padre perché si arrabbiava molto velocemente. Non meriti il paradiso. Andate via. Grazie. Ok, sono tornato sulla terra ma ora devo vendicarmi. Ehi, so che sei stato tu a fare tutto questo. Ah. Ah. Facciamo l'accordo. Quale accordo? M certo. Scivola qui. Se perdi andrai in prigione per sempre. Ma se perdo io potrai trasformarmi in un amico arcobaleno. Affare. Figlio, prova prima. Ho paura. Ehi, troppo veloce. Non è sopravvissuto. Il tuo turno. Cosa? Ai. Ce l'ho fatta. OMG. Ora controlliamo come lo fa Red. Come ha fatto? Tocca a me. Andiamo. È esploso. Così Bluecaven sta tornando alla normalità. Sì, ciao a tutti e grazie per essere qui.